Eccoci qui nei minuti finali, il match che si combatte fra le due squadre Il cugino di Danilo contro i suoi amici Match che si vede affrontarsi con pagine di FC Floridiana contro SSC Bosco di Cavodimonte Arbitre del signor Francesco Tarallo Attenzione, ti viene la palla sulla linea, ottimo la smista C'è il pallone torretrato addirittura La ripartenza e poi il cugino di Danilo che... Siamo proprio nel cugino di Danilo Dani, questo è per te, devi passare le penne dell'interno Attenzione, azione di contropiede, manovrato Il destro, la parata Attenzione, la massicurità del gol Il gol del festeggiato E finisce qui Sul punteggio di 4 a 3 Dani, ci metto a appiccicare con tutto il torneo, devi morire Intervistiamolo, vai Allora, sei tu il cugino di Danilo Prodomo, notiamo la somiglianza Il tuo compleanno quest'oggi quanti anni fai? Venti Tanti auguri, allora, qual è il tuo nome? Donato Senti, allora, dopo questa ottima prestazione Pensi di poter comparire in qualche competizione ufficiale? È difficile Va bene, un messaggio al tuo parente a Milano, Danilo Prodomo Tanti saluti E non ringrazio troppo Dani, fa un po' di palestra Ottimo Grazie e in bocca al lupo Ciao ciao